Ho deciso di venire qui perché ho divorziato. Volevo affrontare una nuova sfida e anche resettare la mia vita. Conquisterai tutti i distintivi, ti farai un sacco di... Vado in un... campeggio per adulti. Non è... non è per bambini. Il distintivo del tiro con l'arco. Niente tiro con l'arco, no. Ok, gente! Percorreremo circa 80 chilometri del sentiero degli Appalaci nel tratto in Connecticut. Queste persone sono... La vostra squadra. Oggi si marcia! Un po' di caffè, Helen. Il mio nome è Helen, con l'H. Davvero? Con l'H, Helen? Mi chiamo Hugh, ho abbastanza anni da non parlare della mia età. Lei mi può capire. Farò voto di silenzio durante l'escursione. Ok, gente! Ralluniamoci. Qui può capitare di vedere un orso? Può accadere di tutto. Anche enormi cani randaggi? Questo è alquanto difficile. Percepisco una tensione tra voi. No, 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 no. Noi due ci conoscevamo già. È il migliore amico di mio fratello. Perché sei qui? Ci si fa molto male durante queste escursioni. È qui che sbagli. Stai parlando con la nuova Helen e questa Helen è sputa in faccia al pericolo. Hai trovato la roccia più affilata della foresta? Ci riesco. Tranquillo. Perché sei venuta qui? Credo non ne potessi più di essere stufa di me stessa. Tutte le sere scrivo tre cose belle che mi sono capitate e ti senti subito più felice. Non fai che ripetere che la tua separazione ti sta attaccata addosso, ma non è quello che vedo. Perché ora ti comporti come un fidanzato geloso? Per lui eri troppo. Se lui ti piace, diglielo e basta. Devi guardare più da vicino, al quadro d'insieme. Mi ricordo che ti piaceva tanto la tua vita e che ridevi continuamente. Sì, ero giovane. Ma sei ancora giovane. Non ce ne accorgiamo, ma la vita ci presenta il conto. Devi trovare il modo giusto di reagire. Al sentiero.